Di fronte all'imperversale del colera, che metteva vittime soprattutto nei quartieri più poveri e malsani, la diffidenza del popolo nei confronti dei centri dirigenti non risparmiò i medici. Gli ecchi di questa ostilità si colgono in molte fonti, la più interessante delle quali è un romanzo scritto un anno dopo l'epidemia da un bolognese, Enrico Farnè, dal titolo Teresina Rodi e un medico omeopatico all'epoca del colera in Bologna, romanzo storico. stampato a Firenze nel 1856. La prima illustrazione del romanzo, nell'antiporta, mostra al popolo bolognese il subbuglio per il timore che l'epidemia e altro non sia che un avvelenamento di massa ordito dagli aristocratici con l'aiuto dei medici. Una vera e propria fake news. Il tema dell'avvelenamento ricorre in Italia per tutto l'Ottocento durante le varie epidemie di colera e si spiega con il bisogno di individuare le cause o semplicemente un capo respiratorio di un evento del tutto incomprensibile e terrorizzante. A tranquillizzare gli animi non contribuiva al fatto che molti bolognesi benestanti fossero fuggiti dalla città e che le zone più popolari e degradate fossero le più colpite dal morbo. Il celebre medico dell'ospedale maggiore Giovanni Brugnoli, nella relazione finale sull'epidemia, elogia la categoria dei medici, sostenendo che fu proprio l'abnegazione dei medici a cambiare l'atteggiamento del popolo che alla fine dell'epidemia tributerà ad alcuni di loro pubblici onori.